E noi adesso invece parliamo di Gianmarco, di Vacanze di Natale e vediamo qualche immagine di questo film, eh? Abbiamo delle fotografie, delle immagini... Non ci sono immagini filmate, ma ci sono foto. Non sono immagini filmate, ma rendono l'idea. Se possono partire, così ci racconti man mano. Ecco, per esempio... Questa è una delle prime scene... Chi è quella a destra, Dick? Dunque, quella... No, allora, ecco... Ecco. Questa è una delle prime scene che ho fatto. Ero un attimo imbarazzata perché l'avevo conosciuta il giorno prima, praticamente. E come è stato baciarla subito così? Vabbè, ma quelle saranno... Non avevo scelta, ho dovuto... Ti hanno obbligato, eh? Sì, purtroppo poi le comparse sbagliavano molte volte, quindi doveva rifarlo otto volte. Otto volte, ti sbagliavi sempre, eh? Non ne potevo più, anche perché sai, mi facevo un po' schifo, l'avevo appena conosciuta, cioè non è che bacio l'appena che viene. Certo, certo. Anche questa scena ti ha molto infastidito. Questa è a capodanno abbastanza, infatti rosserissimo. Qui non saprò come fare, tra l'altro facevo un freddo bestiale, va bene. Niente, questa è a capodanno, una scena della notte che passo con lei a capodanno. Non si vede il resto. E questo è il primo incontro che ho con lei nel film. Sulle piste da sci, sta girando una pubblicità, eravamo in un ghiacciaio, faceva un freddo pazzesco. E questo è un articolo che è uscito su chi oggi? Molto spontaneo e naturale. Sono quelle foto scattate all'improvviso, vero Gianmarco? Senti, ma è stata gelosa la tua fidanzata? E Leonora no, dunque, all'inizio ovviamente è un pochino di fastidio, però sai, è il nostro lavoro, lei fa l'attrice, quindi sta bene che è così. Sai chi era invece molto geloso nel vedere queste scene? Ermano, è vero Ermano? Diciamo che Gianmarco mi stava più simpatico prima. Poi tra l'altro, pensavo di parlare con lei di te, perché sei molto simpatico, hai tante, però se non ti sto più simpatico... No, ma Gianmarco, mi dicono comunque che poi non sia una cosa così emozionante stare a letto con Megan Gale, perché dice che descuilla continuamente il cellulare. E quindi non si riesce proprio a scaldare l'atmosfera. Tra l'altro ha un team invece che l'Omnitel. No, questo no, non ce l'aspettavamo.